Ciao a tutti, bentornati sul mio canale! Oggi un altro video disegniamo insieme questa volta utilizzerò i Prismacolor anziché i pantoni perché appunto voglio vedere come funzionano con un disegno un pochino più complicato spero di riuscire a fare delle sfumature decenti e niente, vi lascio al video disegno con voi iscriviti al nostro canale iscriviti al canale iscriviti al canale! 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 iscriviti al canale!